buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fanu tv oggi è una giornata particolare non è per i superstiziosi ma oggi è venerdì 17 novembre 17 venerdì insomma una data una combinazione non certo gradevole comunque siamo nell'anno del 2023 ora sono le 7 e 01 bene allora iniziamo subito a sfogliare l'almanarco del giorno e vediamo che si festeggia oggi una santa che ricorre molto nella storia dell'arte e santa elisabetta di ungheria santa elisabetta visse nel tredicesimo secolo era figlia del re del della nazione re andrea morì giovanissima a 25 anni ma ebbe modo di distinguersi per il modo con cui aiutò i poveri e ne sosteneva pensate ogni giorno circa 900 anzi più di 900 dicono le cronache conduceva una vita senza sfarzo e si dedicava molto alla preghiera e durante la sua vita così ci furono anche fatti straordinari che caratterizzavano la devozione di questa santa santa elisabetta d'ungheria passiamo ora alle previsioni del tempo abbiamo qualche variazione rispetto alla giornata di ieri il tempo instabile dal pomeriggio con piovaschi sparsi sulla regione specie sui settori centro meridionali i venti moderati da sud ovest sulle coste una tensione media mentre sull'interno con una direzione da ovest e sud ovest un pochino più tesi le temperature 10 gradi la minima 16 la massima si è abbassata ma stamattina non fa freddo è una temperatura abbastanza gradevole c'è un po di vento ma insomma la temperatura non è molto molto fredda il sole sta per sorgere lo farà alle 7 e 10 e tramonterà alle 16 e 40 ebbene allora con queste prospettive della giornata apriamo i giornali e vediamo quello che è accaduto nella giornata di ieri l'apertura sul sul corriere adriatico si parla di sanità si parla di sanità c'è un intenso vivace dibattito politico intorno alle decisioni della regione marche la regione penalizza fano e acquaroli non risponde parla così il consigliere comunale edoardo carboni che durante l'ultimo congresso di azione che si è svolto al tag hotel la settimana scorsa è stato eletto dirigente provinciale appunto di questo partito carboni era così era un componente della lista civica noi giovani e passato ad azione dunque qual è il problema il problema è costituito è emerso soprattutto dalla decisione di realizzare una clinica privata a muraglia a cui sarebbero stati attribuiti dei posti letto che sarebbero spettati alla città di fano vi ricordate quei 50 posti letto di ortopedia che dovevano essere così dovevano essere dati alla clinica di chiaruccia che poi non è stata realizzata ed erano passati un po alla clinica di carignano ma sembra che questi vengono assorbiti dalla clinica tipo cotignola che verrà realizzata a villa fastigi di pesaro e quindi pesaro assorbe quello che sarebbe aspettato a fano di qui appunto quello che sorge dalla politica ebbene privare fano e il suo ospedale dei 50 posti letto per favorire una clinica convenzionata di pesaro osserva edoardo carboni è ad oggi un'opzione sul tavolo della regione che andrebbe a confermare come dalla regione ci sia la volontà di smantellare la sanità pubblica di questo territorio a favore di quella privata insomma un obiettivo una azione che viene contrastata molto dal consiglio comunale di fano almeno dalla maggioranza carboni eletto dirigente provinciale di azione sabato scorso è il promotore di una di una mozione approvata dal consiglio comunale che chiede appunto l'assegnazione del al santa croce di quei 50 posti letto insomma bisognerà vedere ora che cosa farà anche l'opposizione perché a suo tempo fratelli d'italia votò contro e quindi ora bisogna vedere come si riequilibria la situazione la dotazione vada al santa croce così il consiglio votò contro così il consiglio votò contro solo fratelli d'italia si ricorda appunto quello che accadde nel 2018 ma allora la situazione era diversa da oggi e quindi c'è questo questo fatto che rimane lì come fatto storico e poi c'è una dichiarazione del candidato sindaco giuseppe de leo in merito alla sanità e afferma afferma è urgente un riequilibrio di risorse con pesaro infatti secondo de leo ma ovviamente questa è un po una constatazione alla luce di tutti il servizio sanitario è un indicatore della subalternità che avrebbe fanno rispetto a pesaro e secondo il candidato sindaco è percepibile un'evidente sperequazione tra il capoluogo di provincia e la città di pesaro una sperequazione che non avrebbe ragione di essere in quanto sono due entità molto importanti pesaro è la seconda città delle marche fanno lo è della terza e dovrebbero avere entrambi dei servizi essenziali perché sono due centri importanti addirittura fanno a una popolazione superiore a quella delle altre province marchigiane eccetto ancona e quindi meriterebbe un'attenzione che le sarebbe dovuta vi ricordo anche questo appuntamento di questa sera che viene evidenziato dal corriere in questa foto notizia in cui appare monsignore andrea andreozzi il vescovo di fano caigli fossombrone e pergola alle 21 e 15 oggi questa sera al vallato nella casa della comunità ci sarà un incontro che verterà su don milani in occasione del centenario della sua nascita saranno presenti il vescovo andrea andreozzi il dirigente scolastico samuele giombi e cristiana santini che fa parte appunto di questo entourage polo logistico allo zuccherificio seri presenta 20 emendamenti è un articolo che ricorda come questa sera a partire dalle 18 e 30 inizia un'altra maratona del consiglio comunale per adottare il piano regolatore generale c'è stata un'altra seduta mercoledì scorso ora si riprendono i lavori che erano stati interrotti si riprendono con la discussione della delibera e poi la presentazione dei 137 emendamenti che il cui numero più importante è stato presentato dalla opposizione e a nome della opposizione ne parla in questo articolo luca serfilippi consigliere comunale della lega ce ne sono poi anche altri 20 che vengono presentati addirittura dal sindaco massimo seri ebbene secondo luca serfilippi lo strumento il piano regolatore è uno strumento urbanistico condiviso solo con una cerchia di persone che nasce già vecchio nasce già vecchio perché si rifà molto al piano regolatore esistente secondo l'opposizione non dà quel senso di sviluppo moderato contemperato che una città di 60 mila abitanti dovrebbe avere il prg proposto dalla giunta aumenta le restrizioni danneggiando zone afferma afferma serfilippi come paleotta porto trave vallato san lazzaro lido gimarra e meta auriglia se non saranno approvati gli emendamenti proposti dal centro destra dal primo gennaio del prossimo anno le abitazioni che si trovano in queste vie non potranno accedere ai benefici del bonus del nuovo piano casa che la regione sta varando sta varando però è in trattativa con il ministero che sta cercando di portare ad un massimo del 20 per cento l'ampliamento delle volumetrie appunto delle abitazioni ora sono del 40 per cento vengono ridotte un altro nodo evidenziato strategicamente dagli emendamenti presentati dall'opposizione riguarda la suddivisione del centro storico in assi tematici per esempio c'è la via dello shopping che comprende il corso matteotti e prevede che tutti i piani terra degli edifici vengono adibiti a negozi e a attività commerciali e centri direzionali e poi c'è anche la via dei giovani per esempio la via mura malattestiane questa via non può così essere adibita ad altri scopi se non a quelle di attività di laboratori artistici escludendo la possibilità di utilizzare i locali per altri scopi insomma sono delle tematiche un po' incapsulate un po' vincolate che limitano un po' l'attività dei proprietari la destinazione che debbo che intendano dare i proprietari a questi locali ebbene lucasfer filippi fa una interessante disamina dei emendamenti che verranno proposti questa sera e vedremo come poi sarà l'atteggiamento della maggioranza nei confronti di queste proposte centro storico il comitato chiede bagni pubblici ma come si fa che una città di 60 mila abitanti in centro storico non abbia un gabinetto pubblico vengono penalizzati in modo particolare i turisti ma anche gli anziani che frequentano e vanno a fare la spesa insomma è una esigenza molto molto sentita dalla città e il comitato se ne fa se ne fa carico e tutto questo è emerso durante l'incontro dell'altro giorno che il comitato ha avuto con il comune di Fano in cui si è cercato anche di contemperare l'inquinamento acustico ne abbiamo parlato anche nella giornata di ieri per far sì che insomma la vivibilità nel centro storico sia un centro di attrazione ovviamente un centro commerciale un centro dove si fanno le feste iniziative culturali e tanto altro ma anche un centro dove la gente vive e quindi anche la notte dorme e vuole dormire il santa pace ed ora passiamo ad una proposta del Udc una proposta che è stata presentata ieri nell'oratorio della Gran Madre di Dio a San Lazzaro sono stati presenti i vertici provinciali dell'Udc c'era il commissario provinciale Vittoriano Solazzi c'era il presidente della forza politica Marcello Mei e c'era il segretario della sezione falese Stefano Pollegioni il responsabile politico appunto dell'Udc di Fano che cosa propone l'Udc? Ha parlato innanzitutto della viabilità del collegamento tra Fano, i centri dell'entroterra e Roma ebbene la Contessa, la strada della Contessa rappresenta un nodo strategico di questa viabilità purtroppo è un nodo che non è sempre praticabile o quando c'è la neve o quando la strada è dissestata o quando c'è il ghiaccio o quando si fanno i lavori insomma questa strada non è sempre percorribile e questo crea molti disagi ma soprattutto crea danni alle attività economiche. Ecco perché l'Udc ha ripresentato un progetto che è stato a suo tempo redatto dalla Cassa di Risparmio di Perugia, un progetto che intende fare una deviazione di un tratto della Contessa per eliminare tutte le asperità, un tratto corredato da viadotti, corredato da gallerie, un tratto piano che non arriva all'altezza del valico e quindi non è soggetto alle intemperanze del tempo come il percorso attuale. Un tratto che rende più sicuro il transito sulla Contessa, soprattutto più veloce ovviamente nei limiti della sicurezza degli autoveicoli e questo progetto è stato già presentato con una interrogazione dal Senatore De Poli al Ministero delle Infrastrutture Salvini in Parlamento ed ora lo si presenta alla Regione Marche perché lo sostenga e lo richieda formalmente Contessa, variante necessaria per il collegamento con Roma. Non è un'alternativa alla superstrada Fano-Grosseto ma è un'arteria importante prima di tutto per le popolazioni dell'entroterra, Cagli, Cantiano, ieri c'era anche il sindaco di Cagli a questa presentazione e lo è anche per le aziende, per il settore turistico della costa perché quest'anno ha sofferto tantissimo per la chiusura della Contessa, il traffico turistico è stato dirottato tutto verso le Marche del Sud e quindi è un problema, un'esigenza che evidenzia tutta la provincia di Pesaro Urbino. Rapinò il parroco del Duomo è stato condannato, ebbene si tratta di un 49enne originario di Caserta che nel 2021 entrò in Duomo a Fano, incontrò Don Luciano Torcellini che allora era il parroco, chiese dei soldi, Don Luciano disse che non ne aveva e aveva rifiutato di darli, l'uomo lo aveva spintonato, lo aveva così portato in sacristia e qui si era impadronito di 50 euro. Una rapina vera e propria, gli inquirenti lo hanno rintracciato grazie poi alla visione delle videocamere, Don Luciano ovviamente da buon parroco ha perdonato l'uomo e non ha presentato querela, ma il fatto poi è proceduto d'ufficio e ieri il giudice lo ha condannato dovrà scontare un anno e otto mesi e la cosa non è stata condonata, insomma dovrà stare in galera non è che può uscire. Giriamo la pagina, a terre roveresche previste due nuove rotatorie per aumentare la sicurezza, il sindaco Sebastianelli presenta le opere di Piagge e Orciano opere che vengono realizzate con gli aiuti dalla regione per un totale di 150 mila euro ebbene c'è ancora dibattito a Marotta per la settimana corta nelle scuole la settimana corta penalizza gli studenti, era logico aspettarsi che una parte dei genitori fosse contrario a questa innovazione, lo avevamo anticipato anche nella giornata di ieri quando avevamo pronosticato che i genitori, soprattutto che lavorano, il sabato non hanno un aiuto parentale non sanno appunto a chi lasciare i figli. I genitori contrari segnalano disagi creati poi dalla sesta ora l'ora più faticosa per i ragazzi a scuola dopo averne trascorse 5 sui banchi. Vediamo anche la pagina di Senigallia dove il turismo la fa da padrone ancora oggi c'è un intervento della Confesercenti che spinge sul turismo un 5 stelle propone un 5 stelle nelle ex hotel Marche, la proposta è di tassi cercare grandi catene internazionali per realizzare un albergo di altissimo livello dunque punta sul lusso il presidente di Asso Hotel Confesercenti, appunto Tassi che invita le istituzioni a cercare grandi catene internazionali per realizzare un albergo ad altissimo livello che darebbe un punto in più a Senigallia che già di turismo ne mastica parecchio. Vediamo anche l'apertura sulla pagina di Pesaro sul Corriere Adriatico che è dedicata al trasporto pubblico un trasporto pubblico diciamo così sulla sede di partenza alla stazione del trasporto pubblico per quanto riguarda gli studenti. Via D'Arezzo al momento della uscita della scuola si trasforma veramente in un caos, salire sul bus diventa uno sport estremo per gli studenti del campus ebbene si chiede agli assessorati competenti, quelli dell'urbanistica e quelli della viabilità di accelerare a definire al più presto il riordino promesso della viabilità di entrata e di uscita del campus prima che succedano incidenti. Infatti decine e decine di ragazzi che attraversano nell'ora di punta uno dei tratti più trafficati dentro il quartiere di Villa San Martino creano veramente tanti problemi e sono tanti i ragazzi in attesa su una piccola banchina che separa appunto quest'isola dalla careggiata e occorre fare qualcosa appunto per riuscire a salvare la situazione. Vediamo anche qualche titolo di cronaca strappa il braccialetto elettronico e fugge, scatta il cordone di sicurezza per le vittime e un violentatore, un ristoratore che era ai domiciliari ed ora una volta fuggito si crea tutta una rete di protezione in modo particolare alle vittime del sopruso commesso da questa persona sarebbero l'ex socia e l'ex compagna entrambe violentate. Intanto le forze dell'ordine danno la caccia alla coppia di albanesi evasi mentre facevano dei lavori fuori appunto della prigione caccia la coppia di evasi sumiti in prefettura per coordinare le indagini. Probabile il tentativo di espatriare sono un uomo e una donna che alle 15 di mercoledì scorso non si sono presentati nella casa circondariale di Pesaro dopo essere usciti normalmente per compiere il loro lavoro, avevano questo permesso. Botte e rapina per debito di droga va a processo uno degli aggressori, la furibonda rissa nell'area della stazione per della cocaina non pagata e qui c'è la resa dei conti per questa situazione. E vediamo anche la pagina di Urbino, la scena del crimine globale Urbinoir dedicato all'ambiente, l'evento incentrato sui reati ecologici, dobbiamo fermare il pianeticidio. Dunque torna una manifestazione, un evento che ha avuto successo anche in passato, si tratta di Urbinoir. Dal 22 al 24 novembre prossimo si concentrerà su argomenti ambientali, sono eco-mafia, eco-terrorismo, si parlerà anche di planeticidio, insomma sono temi importanti, temi piuttosto tosti che correderanno questa edizione di questa così speciale, estroversa manifestazione che si svolge nella città ducale. Ed ora diamo un'occhiata anche al resto del Carlino, dove l'articolo di apertura è dedicato ai residenti di Carrara. Residenti di Carrara che lottano strenuamente contro l'inquinamento acustico prodotto dalla centrale elettrica. È una battaglia tra Davide e Golia, di cui il piccolo Davide è costituito dai residenti, specialmente quelli che abitano vicino alla centrale. E Golia invece da Terna, questa grande entità, questa grande azienda che assicura il trasporto dell'energia elettrica su tutto il paese. Carrara torna alla carica, l'Adriatic Link, troppi silenzi. Vi ricordate cos'è l'Adriatic Link? Quello elettrodotto che dovrebbe mettere in comunicazione le marche con l'Abruzzo, passando però all'inizio sottoterra, poi sotto il mare, per poi riandare sottoterra in Abruzzo. Ebbene il Comitato dei residenti, esasperato dal rumore, le notte non si dorme, il Comitato dei residenti chiede al Sindaco Seri che si faccia promotore delle istanze dei cittadini. Il Sindaco si deve attivare perché loro non riescono a così interfacciarsi con Terna. Si realizzano marciapiedi e rotatorie dove mancano. Procedere con l'interramento di tutti i cavi da 135 mila volte da 380 mila è la proposta. Ebbene il Comitato dei Carrara interviene su questo fatto cercando di trovare una breccia per interloquire con l'azienda per risolvere il problema. Si diceva che era risolto ma risolto non è. E poi articolo di spalla abbiamo l'iniziativa dell'Udc in favore della Contessa. L'Udc lancia la sua battaglia e di questo abbiamo già parlato mentre Fratelli d'Italia suggerisce la necessità di pulire il fosso degli astienti. Le condizioni della strada che collega via Flaminia con la comunale di Rociano sono a dir poco disagevoli quindi un problema che dovrebbe essere risolto. Intanto anche Sant'Orso è diventato problema ai raggi X perché il problema della viabilità è stato esaminato ieri sera nella sede del club Anziani Anni Nuovi dove i fratelli d'Italia si sono confrontati con alcuni residenti per cercare di far emergere i problemi che questi vivono tutti i giorni. Rotatorie a tutta piange indirittura d'arrivo. Si parla di terre roveresche, lavori per un totale di 150 mila euro. Termineranno entro dicembre, l'abbiamo visto prima, ne abbiamo già parlato. Intanto però il resto del Carlino dedica la sua attenzione ai cimiteri di Fano. Ebbene cimiteri e disagi, brunori, lavori ormai al via. L'assessore illustra il piano e annuncia 200 mila euro sono stati stanziati per il cimitero di Rosciano. Ci aspettano lunghi mesi di interventi. Il cimitero di Rosciano è quello che ha più bisogno di interventi rapidi perché in questo Stato non c'è più posto per le salme. Concludiamo la nostra rassegna stampa con un ultimo articolo che scegliamo da Urbino. Abbiamo visto Urbinoir, ma vediamo anche quello che c'è a fondo pagina. Spalluto sbanca Luca Comics, il suo Deep Mind supera tutti. Si tratta dello dontoiatra urbinate premiate con un gioco di deduzione e con una base psicoanalitica. Un articolo molto interessante da leggere. E con questo veramente terminiamo la nostra rassegna stampa, augurandovi una buona giornata. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie per la visione.